Prova video in 4K da HTC 10 Facciamo un controluce Sembra che gestisca molto bene il tutto Sto camminando in questo momento in modo da testare la stabilità del dispositivo Facciamo uno zoom Un altro controluce Sembra che gestisca veramente molto bene la luce E andiamo adesso a chiudere con la classica macro